Caro amico, sei messo male, sei vittima di un tempo un po' sbagliato, un tempo dove tutto si è appiattito, dove ciò che aveva un senso si è deteriorato, e se ti viene qualche idea geniale, butta la via, perché qualsiasi comportamento c'ha già un suo riferimento, all'idiozia. Non è più il momento di fare lunghe discussioni, di fare ipotesi sociali o confessioni personali, non è più il momento di fare inutili teorie, di cantare una canzone o di comprarsi un cane, non è più il momento di fare tristi seminari, di scrivere sui muri, non ha più senso neanche la follia, non è più il momento di dedicarsi ad una donna o a qualcos'altro di importante, non è più il momento per niente. E come chi è stato tradito da una donna per bene, tu ora pensi che tutte le donne siano puttane, le donne siano puttane, razza già finita, senza neanche cominciare, razza disossata, già in attesa di morire, no non fa male, credere, fa molto male, credere male. Però fa un certo effetto ritrovarsi a ricordare, e più che altro a dire, che era molto meglio qualche anno fa. Non è più il momento di ritentare le comuni, di aver fiducia nei contatti e di dare il tutto a tutti. Non è più il momento, c'è solo un po' di nostalgia, stava per nascere qualcosa, la nostra rabbia era allegria. Per tenerci in vita ci bastava una cazzata, non si sa perché improvvisamente, non è più il momento per niente. Quella magnifica illusione, non era mica un'idiozia, ma tu che sei stato tradito nella tua aspirazione, tu ora pensi che tutte le idee siano coglione. E' razza già finita, senza neanche cominciare, razza disossata, già in attesa di morire, no non fa male, credere, fa molto male, credere male. No, non fa male, credere, fa molto male, credere male. Applausi. Grazie. Applausi. Grazie. Grazie.